Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un gioco, ringrazio di cuore, Andrea Battistini perché me l'ha consigliato lui. Ora, onestamente, mi ricordo che in passato l'avevo già visto perché ora vi spiego tutto chi sono e cosa fanno, però poi mi era passato completamente di mente e non pensavo che avessero fatto un gioco del genere. Quindi Andrea, grazie veramente di cuore. Il gioco di cui vi voglio parlare oggi è Core Space, che è della Battle System. La Battle System è una casa di sviluppo di board game, ma che più che altro fanno scenari, che ora vi farò vedere, perché questo è il loro primo board game che hanno fatto, con i loro scenari, i loro sistemi, le loro regole e ora anche le loro miniature, proprio hanno voluto fare un board game loro su misura e poi ci sono gli scenari. Loro di solito fanno scenari che sono scenari sci-fi, stazioni e relitti spaziali e per concludere hanno anche qualche scenario fantasy. Più che scenari fantasy hanno più roba tipo per i dungeon, tipo uno scranno, un trono, potrebbe anche essere una rastrelliera per le armi, delle pareti. Quindi andate a vedere nel loro sito perché la Battle Systems fa dei sistemi, degli scenari di gioco, tutto quanto in cartone duro e tappetino. Però sono fatti veramente, ragazzi, veramente bene e vanno bene per tutti i giochi con miniature fino a 35 mm. Ovviamente non sono scenari per giocare a Warhammer 40.000, però ad esempio per un Necromunda potrebbero andare bene. O anche semplicemente per degli skirmish game. Quindi prendendo uno scenario sci-fi come questo Galactic set che vi farò vedere, voi potete tranquillamente metterci delle miniature di Warhammer per giocarci all'interno. Sono veramente fatti benissimo. Ovviamente non c'è neanche bisogno di dipingere questi scenari perché sono già interamente colorati, voi dovrete soltanto andarle a montare. Ora magari per montare una mappa del genere ci vuole un setup che va dai 20 ai 30 minuti, anche perché questo gioco Core Space prevede una modalità cooperativa, ma per la maggior parte per il 90% un gioco PvP di battaglie tra squadri di mercenari. E è normale che per costruire la mappa, a seconda dell'avventura con gli obiettivi che sceglierete, potrebbe cambiare la disposizione degli edifici. E a quel punto dovresti ogni volta smontare e rimontare. Calcolate che per fare una partita a questo gioco almeno un 20-25 minuti di setup ci vogliono. In breve, ora prendendo questo scenario che vi farò vedere poi dopo a parte, mia moglie per montarlo sta già per impazzire perché ragazzi, cioè io vi farei sentire il peso, peccato non si può far capire quanto è il peso di un oggetto in un video. È veramente immenso, ora ve lo facciamo vedere. E questo è uno scenario. Questo è il gioco con un altro scenario all'interno, con le miniature e tutto quanto. Ed è bellino questo Core Space perché è un gioco skirmish dove andremo a interpretare un equipaggio di mercenari. e dovranno ovviamente fare battaglia con altre ipotetiche squadre di mercenari, appunto perché se vi dicevo che è anche un gioco PvP, PvE, per farvi capire, e dovranno andare a bordo, scavengiare, prendere la miglior roba per poi rivenderla e trarne il miglior profitto possibile per ovviamente immagazzinare sordi, potenziare il loro equipaggiamento, passare di livello, perché il gioco prevede anche una modalità campagna. Quindi alla Mordheim potrete proseguire, diventare sempre più forti e giocare una campagna che vi collegherà a missione dopo missione. Ed è un gioco veramente molto interessante perché alle meccaniche del puro skirmish ci mette delle missioni, tipo Wild West Exodus. Che ne so, dovete uccidere quel bersaglio, dovete recuperare quell'oggetto prezioso e poi ovviamente tornare a bordo delle vostre navi e filarvela. Il gioco è veramente molto interessante, il peso quando vi arrivano a casa a ste scatole, ho alzato il pacco e ho detto che c'è dentro un morto, c'è veramente tantissima roba. Per farvi vedere qualcosa velocemente, Questa è una piccola, piccola, piccola grande espansione, è il Galactic Sci-Fi Terrain, che ora poi vi faremo vedere anche costruito, e guardate ragazzi cosa c'è dietro. Pensate che tutto il gioco e tutto il regolamento di Core Space si gira intorno alle meccaniche di battaglie, in scenari veramente poi alla fine belli, caratterizzati anche claustrofobici se vogliamo, perché ci sono tanti condotti, passaggi alternativi, è veramente un diorama, un vero e proprio diorama in miniatura dove muovere le pedine vostre in mercenaria e darvi battaglia. È già tutto colorato, voi ovviamente seguendo il libro delle missioni dovete montarlo e smontarlo a seconda di come la missione sarà, perché ovviamente non sarà sempre ambientato dentro la solita stazione orbitale, ma ovviamente il gioco simula che vi spostiate da un posto a quell'altro, quindi ogni volta per ogni nuova missione dovrete sempre cambiare lo scenario. Ragazzi è un gioco veramente spettacolare, io ringrazio ancora una volta la Battle System per avercene fornito una copia o mangio, più oltretutto nemmeno il gioco base quanto anche uno scenario e ricordo per anche a chiunque di voi non gli interessasse questo gioco potrebbe direttamente comprare gli scenari, perché gli scenari si possono usare per tutti i giochi di miniature fino a 35 mm, quindi comunque è perfetto anche per giocarci ad esempio a Warhammer. Passiamo all'unboxing. Questa è la scatola del gioco che vi ricordo essere il loro primo board game. Core Space, il gioco di miniature sci-fi della Battle Systems. Vedete la scatola molto bella tra l'altro e anche la cosa che mi ha attirato quando appunto Andrea, che ringrazio ancora una volta, me l'ha fatto conoscere perché ho detto ma bellina alla fin fine queste squadre di mercenari che si sparano in queste navi space hulk o stazioni orbitali e la cosa bellina sono questi robot che sono praticamente la controparte, la parte nemica si chiamano The Purge, la purga, sono coloro che come Necromonger se vi ricordate, girano per l'universo unicamente per assimilare e distruggere quindi la loro missione è distruggere tutte quante le forme di vita quindi una missione anche abbastanza semplice e veloce e sono bellini perché ricordano anche un pochino se vogliamo i siloni di Battlestar Galactica. apriamo il manuale di gioco eccolo qua tra l'altro bello tozzo e tra l'altro impaginato bene discrittivo fatto bene molto semplice anche di facile lettura ve l'ho detto ragazzi è il classico gioco skirmish non c'è niente di nuovo quindi comunque farete presta a leggere e all'interno ci sono oltre alle regole e tutto quanto anche le missioni mappa di gioco che per farvi capire è della stessa composizione di un tappetino per il mouse uguale stessa composizione fatta veramente bene e tra l'altro bella grande poi ve la faremo vedere nel dettaglio indicatore della purga dei nemici che poi vi farò vedere con calma perché è praticamente un tracciato che delimiterà l'arrivo e la potenza perché mano a mano che passeranno i turni di gioco i nemici saranno sempre più potenti plancia di plastica per la scheda del giocatore dove mettere la scheda del giocatore del personaggio le varie caratteristiche sotto con i piolini da inserire e poi le armi e tutto l'equipaggiamento dadi dadi rossi e blu di combattimento e il dado bianco serve per fare un tiro e per aggiungere un po' di fattore casual agli scontri carte evento di gioco che all'inizio di ogni turno dovranno essere pescate per vedere che cosa succederà è per dare quel pizzico veramente di pepe in più alla partita pezzettini di plastica che servono per attaccare e fermare i vari pezzi della mappa quindi per le curve curve ad angolo incrociati e cose del genere basette per le miniature per dividere le due squadre quindi che ne so squadra blu e squadra verde sacchettino dentro cui mettere il loot che troverete nel gioco quindi questo sacchettino dovrete mettere all'inizio del gioco serve anche per altre cose però inizialmente il loot lo metterete qui dentro e poi senza guardare andrete a pescare un oggetto per metterlo dentro una delle casse del gioco in alto le due squadre di mercenari e poi i civili e in fondo i nemici ve l'ho detto quelli della purga che serviranno come forze di contrapposizione perché ricordo questo è un gioco o pve cooperativo completamente cooperativo oppure pvp con in mezzo dei mob da combattere questa è una delle miniature un capo squadra di una delle squadre dei mercenari per farvi vedere un pochino il dettaglio e come sono fatte sono molto carine come miniature sono fatte bene non è il top del top del dettaglio però quello che lo devono fare lo fanno secondo me anche egregiamente sono belline dai sono molto caratteristiche in questa ambientazione ci stanno e uno dei nemici per farvi vedere come sono fatti e sono bellini perché ve l'ho detto dai ricordano un po' i siloni di Battlestar che alla fin fine sono sono creature dello spazio profondo che sono rimaste un po' iconiche nell'immaginario sci-fi di tutti quanti quindi ci stanno dai azzeccatissime token schede dei personaggi schede dei mostri dei nemici insomma qua giù c'è tutto e poi girando dietro vedete alcuni pezzi dei tile e qui veramente c'è da sbizzarrizia smontarli tutti e montarli per creare uno scenario purtroppo forse la cosa no brutta ma comunque difficile questo gioco ve l'ho detto ci vogliono dai 20-30 minuti per preparare una partita quindi non fate le corse organizzatevi bene per fare una serata con gli amici e lo scenario non è sempre lo stesso quindi non è che uno dice lo costruisco tanto lo scenario è quello è fatto lo metto da parte e lo porto no perché da una missione all'altra cambia quindi cercate sempre insomma fine missione smontatelo riponetelo nella scatola che tra l'altro è bella grande e c'entra tutto anche per evitare di romperlo descrivendovi la scheda di un personaggio questa qui è una squadra una crew e in questo gioco vi ricordo siete squadre di mercenari che dovete andare ad arraffare delle specie di pirati o contrabbandieri stellari e queste qui sono le schede dell'equipaggio certe missioni vi faranno usare 4 membri per la missione di partenza ne potete usare soltanto 3 nella scheda cosa viene detto vedete tra l'altro bellino il raccoglitore in plastica dove potete mettere le armi gli equipaggiamenti la classe cioè la scheda del personaggio e la classe in fondo comunque la scheda ci dice il primo valore sono i punti ferita del personaggio vedete che alcuni pallini sono tipo più stretti e un altro in fondo invece completamente bianco al centro vuol dire che ad esempio questo personaggio partirà con 4 punti ferita e facendo level up potrà portarli massimo a 5 vi consigliamo come dice il gioco di comprarvi un pennarello dry marker pen perché qui non ci sono token o cosine per segnare ogni volta che magari passerete di livello dovrete mettere proprio un puntino sulla scheda puntino che poi potete tranquillamente cancellare poi questo personaggio ha due azioni che non potranno essere alzate nemmeno con i punti esperienza quindi lui massimo potrà fare due azioni punti skill che può utilizzare quindi da 2 a 5 e in più il livello della carriera che vedete qua giù sotto praticamente la carriera serve ogni volta che questo personaggio guadagnerà dei punti esperienza verranno ovviamente segnati e quando questa barra qui sarà completamente piena lui guadagnerà un nuovo livello del personaggio e nuovi punti da spendere nell'abilità continuano sotto le armi perché vedete qua giù sotto c'è lo slot ad esempio gli slot dove mettere le cose questo gioco è bellino perché come vedete lui ad esempio ha un'arma lunga che sarebbe un fucile d'assalto e vedete qui ha un oggettino e rimane un buco quindi se lui qui accanto ci volesse mettere un'altra arma da fuoco potrebbe prendendolo dalla scheda di qua potrebbe ad esempio metterci una pistola e a quel punto non potrebbe più portare oggetti avrebbe un'arma a distanza un'arma d'assalto una pistola e un altro oggetto oppure potrebbe potrebbe scartare questo per metterci un altro oggetto che troverà comunque quando questa barra qui sotto è piena lui non potrà più mettere oggetti completano sotto la classe del personaggio con tutte le skill che vedete e anche qui le skill vanno da un minimo di 1 a un massimo di 3 e dovrete sempre mettere col dry pen il puntino ogni volta che dovrete alzare o comunque mettere una skill la cosa importante è che all'inizio del gioco per la prima avventura il gioco cosa ci dice dovete andare a vedere la classe career quindi questa qui gialla queste linee gialle qua giù in fondo che vi diranno quanti punti avrete inizialmente da spendere per queste skill qua sotto quindi lui ne ha soltanto 1 quindi metterete un pallino in una delle skill che volete usare lui ne ha 1 quindi uguale lui invece ne ha addirittura di partenza 1,2,3,4,5 quindi lui avrà molti più punti da spendere nelle skill potrebbe mettere tipo 1 a livello 3 e 1 a livello 2 oppure potrebbe mettere 5 a livello 1 quello comunque dovete sapere che non possono mai andare sopra il livello 3 e in più completano la scheda il costo del personaggio lui costa 57 44 e 37 un po' ragazzi come Mordaim di Warhammer quando dovrete fare l'esercito il gioco vi dice avete 180 punti ne potete anche mettere di meno o di più quello diventerà voi però magari una missione potrebbe dire avete 180 punti da spendere e voi con quei punti da spendere dovete riuscire a fare non soltanto una squadra ma anche l'equipaggiamento equipaggiamento che prima di un'avventura si compra spendendo ovviamente crediti stellari che guadagnerete avventura dopo avventura oppure si trova direttamente nelle mappe come loot l'equipaggiamento si porta da una missione all'altra soltanto in modalità campagna quindi se trovate una missione scusate se trovate una pistola e riuscite ad estrarla a fine missione quando tornerete a bordo della vostra navetta quell'equipaggiamento lì rimarrà nel vostro personaggio per tutto il resto della campagna e poi ovviamente ci sono delle caratteristiche sulle armi che vedete tre pallini uno, due, tre e anche sulla pistola uno, due, tre nelle armi da corpo a corpo è lo stesso questo cosa vuol dire che quest'arma agittata corta ne tira due agittata media ne tira uno e agittata lunga non tira proprio perché questa è un'arma che arriva massimo a medio raggio la pistola giustamente è un'arma a corto raggio e quindi tira soltanto a corto raggio un dado per tutte le altre distanze non tirerà completano la scheda i pirulini qua sotto che sono in verde i punti ferita che c'ha guardate con quanto parte? quattro quattro il numero di skill viola che può utilizzare e in fondo la figata del gioco i proiettili dell'arma che ogni arma ha sette munizioni e ogni volta che sparerete un colpo o più dovrete levare un pirulino e metterlo accanto e nel gioco se volete ricaricare la vostra arma dovrete trovare l'equipaggiamento di un caricatore scartarlo e recupererete tutti quanti i proiettili che avete speso questa è la scheda del personaggio questa ad esempio è la squadra per i personaggi che avete visto nelle schede che vi ho appena descritto quella che vedete invece sotto di loro è un po' come in space hulk la plancia d'arrivo perché si fa conto che in questo gioco è importantissima la nave la navetta che porta le squadre in missione le squadre ovviamente di mercenari e di pirati spaziali ed è una cosa che non vi sto a toccare perché è una parte molto avanzata del manuale che vi spiega che a fine missione c'è da fare tutto il processo per potenziare la nave la nave che poi a livello di gioco non c'è come miniatura ma potete utilizzare anche durante le partite tipo che ne so la navetta che sbuca accanto da una parte e inizia a sparare all'interno per ammazzare nemici o anche soltanto che usa i sensori per rivelare il contenuto di alcune casse comunque beh questo non ve ne parlerò perché è una cosa molto più avanzata i personaggi all'inizio la missione ci dice dove sbarcheranno vari punti noi abbiamo scelto quello e inizieranno tutti dalla loro plancia fate conto che la nave ha appena attraccato in questa attrazione orbitale e loro stanno per uscire le zone dove si può utilizzare la dry pen ragazzi occhio sono quelle plastificate lo vedete anche qui tipo le varie abilità della nave sensori cannoni e motore e cose del genere supporto vitale non usatelo ovviamente sul tabellone perché il tabellone è tipo un tappetino come per il mouse e lì rischierete di rovinarlo completano il tavolo di gioco la scheda dei mostri della purga che poi sono praticamente questi qua giù e sono di vari tipi di vari modelli si va da un livello 1 per un soldato di base a un livello 4 che praticamente è una specie di boss il livello 1 l'harvester ad esempio quello più debole che poi debole non tanto perché sono ognuno di questi robotini qui è una volta e mezzo un personaggio normale se non due e ovviamente hanno le loro caratteristiche anche loro di movimento di fuoco di sparo e tutte quante le caratteristiche loro principali di armatura sono segnate qua sopra poi abbiamo la barra del livello della purga con dei piruli neri che praticamente ogni volta che passerà un turno verrà giunto un piolo nero per ogni la prima volta che sarà sparata invece un colpo di arma da fuoco visto che queste creature sono vicine e aspettano soltanto di sentire un rumore per abbordare la nave salire a bordo come vedete nella storia del gioco distruggere qualsiasi cosa qualsiasi essere vivente perché loro sono distruttori una specie di buco nero che divora qualsiasi cosa dello spazio dovrà essere messo un pirulo nero a inizio del turno più nel caso si sia stato sparato uno o più proiettili leverete dalla scheda quel proiettile sparato giallo e lo metterete qui ovviamente passando nei vari step della purga ad esempio a livello guarded potrebbe apparire soltanto un nemico e qui cosa ci dice un dado nero uno prende un dado nero che è quello dei nemici lo tira e a seconda del risultato che viene metterà altrettanti nemici che sono entrati da una delle zone disegnate sul tabellone questo è un altro livello un altro livello un altro livello e poi un livello finale dove ovviamente inizierà a sponare di tutto le carte evento perché a fine di ogni l'azione di gioco è sempre il turno dei giocatori che dipende come se avete scelto la modalità cooperativa prima tutti i giocatori e poi i mostri se avete scelto la modalità base del gioco che è quella pvp a due squadre giocatore a muove una miniatura giocatore b muove una miniatura poi ritorno al giocatore a che ne muove un'altra e al giocatore b che ne muove un'altra quando tutte le miniature dei giocatori sono state mosse finisce il turno si gira una carta evento si va a leggere a seconda dell'indicatore della purga che cosa succede e poi alla fase dei mostri si fanno entrare i mostri e i mostri faranno tutto quello che devono fare poi ci sono i dadi che sono dado nero per i mostri da attirare secondo il vario indicatore della purga dadi blu e dadi rossi che sono d'attacco per tutti il dado blu è quello più importante e forte del gioco che dovrete sempre tirare e poi dadi rossi vi faccio un esempio se dovete tirare tre dadi ne tirate uno blu e due rossi se dovete tirare due dadi ne tirate uno blu e uno rosso in caso dobbiate tirare un dado soltanto per fare un attacco tirerete quello blu quello blu deve essere sempre il primo dei dadi a essere messo durante un tiro un check di un'abilità o una cosa del genere quindi ci dovrà sempre essere questo è un simbolo di colpito quindi una ferita doppia ferita simbolo di mancato e simbolo di malfunzionamento di solito nelle armi da corpo a corpo con un malfunzionamento l'arma si rompe armi invece a distanza con due malfunzionamenti l'arma si inceppa e dovrà essere usata un'azione per rimetterla in funzione questi sono i dadi di attacco e poi c'è un dado bianco che è sempre usato per i mostri e per la purga che serve soprattutto a parte per fare i check di chance per vedere se succede qualcosa di particolare all'interno di una partita ma soprattutto quando loro dovranno entrare in gioco da una delle sei zone dove possono entrare sul tabellone verrà tirato questo dado bianco e magari facciamo conto che se è uscito questo valore qui che è un valore di 4 andremo a identificare l'entrata numero 4 e lì verranno posizionati i mostri ultima cosa ma non meno importante è il cursore di movimento tutti i personaggi e anche i mostri si muovono di 4 vedete un movimento è di 4 un altro movimento è di 4 per poi andare al massimo del movimento che è sempre di 4 e così oltre tutti i personaggi si muovono di 4 e ricordo che in questo gioco tutti hanno 2 azioni di base a parte qualcuno che magari nella scheda potrebbe avvenire di più comunque di base tutti i personaggi hanno almeno 2 azioni da fare e poi se sulla scheda viene portata 5 azioni quel personaggio avrà ad esempio 5 azioni da utilizzare comunque per la maggior parte si può andare personaggi più forti ce ne hanno 3 la maggior parte hanno sempre 2 azioni da fare e quindi misurerete la distanza sul tabellone girandolo invece dall'altra parte c'è il range delle armi range corto quindi agitata corta range agitata media e range agitata massima non esiste perché se avete un'arma che tira range 3 virtualmente tira in tutto il tavolo del gioco quindi era inutile fare un misuratore di un metro se avete superato la distanza media praticamente e potete tirare agitata massima lo continuate ad usare per spostarlo sul vostro nemico e se arrivate a colpirlo userete la terza caratteristica dell'arma il terzo pallino che è per la gittata massima allora ragazzi questa è una mappa di base per un'avventura diciamo tutorial infatti questo gioco è bellino perché c'è la modalità single shot o la classica avventura un po' come abbiamo visto in Massive Darkness e tanti altri giochi del genere e la modalità storia barra campagna questa è una mappa completamente scollegata che vi dicono fatela inizialmente perché vi insegna appunto le regole del gioco ed è una mappa molto semplice che vi dice di fare un obiettivo unico in particolare senza troppe complicazioni comunque intanto guardate il dettaglio e qui faccio veramente un applauso a mia moglie che ci ha perso tutta la mattinata per costruire incollare e montare perché quello che vedete voi ragazzi tutte le pareti tutti i muri sono attaccati un po' come Space Crusade in Star Quest però tutti gli elementi scenografici che vedete qui nel mezzo sono stati montati ed incollati uno a uno che ne so la panchina le casse il computer ma poi guardate anche il livello di dettaglio di questa mappa qui bellissima c'ha addirittura le insegne i cartelli c'ha addirittura delle casse che poi vi faremo vedere a cosa servono questo gioco ragazzi è veramente un gioiello e la cosa bella può essere giocato pvp cooperativo o con tanto di Dungeon Master quindi potete giocarlo anche tipo Hero Quest è una figata assurda ma iniziamo a farvi vedere un pochino come funziona al solito ragazzi vi farò un tutorial veloce per chi non voglio che i miei video siano presi come tutorial è vediamo il video di Coridan per imparare a giocare no io vi presento il prodotto poi ovviamente se volete imparare a giocare ve lo comprate e leggete l'eguamento io vi do comunque un'infarinatura generale all'inizio di un turno di gioco ovviamente la cosa da fare è far sbarcare le truppe farle muovere e tutto quanto quello che vedete qua giù azzurro qua giù in fondo è un personaggio civile i civili nel gioco sono molto importanti sono la parte forse più carina di questo gioco di Core Space perché possono a seconda bisognerà sempre tirare il dado bianco per vedere il risultato che verrà fuori quando un personaggio ci arriverà corpo a corpo e potrebbero essere ostili o amichevoli potrebbero addirittura attaccarvi potrebbero mettersi paura perché voi siete mercenari spaziali pirati spaziali potrebbero fuggire da voi però potrebbero anche decidere di fare un trade quindi di contrattare con voi o anche semplicemente di unirsi al vostro equipaggio quindi automaticamente diventeranno dei veri e propri membri del vostro equipaggio che potrete utilizzare nel corso della missione potranno rimanere con voi fino a fine missione nel caso proprio diventare veri e propri personaggi e membri del vostro equipaggio comunque voi prenderete sempre la misurazione facciamo conto che questo personaggio dica ok io voglio andare a parlare con il civile quindi le mie due azioni che ho voglio fare due movimenti faccio due movimenti guardo se ci arrivo come a distanza lo prende e lo sposto in contatto in corpo a corpo quindi a questo punto dovrò tirare il dado bianco per vedere cosa esce e andando sulla tabella del gioco il gioco mi dirà come reagisce quell'NPC se io nel caso al posto di questa NPC qua giù rimettiamo gli omini di partenza al posto di questo NPC qua giù avesse avuto che ne so un nemico uno della purga potrei dire allora prima azione che fa il mio personaggio visto che questo personaggio ha due azioni vi ricordo potrei dire va bene io lo sposto fino che ne so tipo a qui e poi avendo linea di visuale sul nemico provo un attacco vediamo a quanto sono di distanza posizionatela sulla base dell'omino e vedete dove arrivate comunque diciamo che come distanza siamo a uno short range ricordando che lui ha un fucile d'assalto che in short range tira due dadi e medium range invece ne tira uno io andrò a prendere visto che sono due dadi come vi ho detto il dado blu e il dado rosso e li andrò a tirare quindi tirando due dadi io vado a vedere quale sarà il risultato come vedete qui ho avuto una sfiga clamorosa perché non solo ne è uscito nessun colpito però è uscito anche un simbolo di pericolo che non basta per incepparmi l'arma da fuoco perché come vi ho detto ne servono almeno due però io nel caso che ne so avessi tirato tiriamoli un pochino a mio vantaggio avessi tirato c'erano anche due da una parte una cosa una situazione del genere avrebbe detto che ho fatto una, due, tre ferite ora siccome questo mostro come vi ricordate che vi ho detto all'inizio che è quello della purga più debole alla fin fine ha un valore di armatura di uno l'armatura non è un tiro di dado come che ne so su Massive Darkness l'armatura direttamente toglie ferite quindi dice valore di armatura di uno io ho fatto un valore di tre sui dadi quindi mi venne levata una ferita gliene faccio comunque due e due ferite sono abbastanza per uccidere questa creatura ovviamente i personaggi del gioco hanno più punti ferita ragazzi perché è normale non puoi morire con un colpo a maggior ragione visto che è anche un gioco pvp ci sono bomba a mano mitra distanza sarebbe troppo veramente troppo difficile comunque di solito i personaggi della purga hanno un punto ferita e difficilmente almeno che le regole del gioco non dicano diversamente ne hanno di più quindi lui viene colpito viene distrutto e viene rimosso dal gioco ci sono varie regole opzionali che dicano ad esempio se lui fosse stato qui in questa posizione e io fosse stato qui si va un'altra volta a rimisurare la gittata e vedete misurando la gittata sarei sempre short range però regola vuole che lui è parzialmente coperto perché dietro una copertura tutte quante le coperture parziali danno sempre un valore di armatura aggiuntivo di 1 quindi lui vi ricordate ha 1 per la sua armatura più 1 per la parziale copertura quindi avrebbe elevato non un danno soltanto dal tiro di 3 precedenti ma ne avrebbe elevati 2 però comunque una ferita sarebbe passata lo stesso e lui sarebbe morta stessa cosa se lui nel turno dei mostri avesse deciso di tirare al personaggio andiamo sempre a vedere la gittata per quanto ricordatevi che si fa unicamente per vedere se sono in linea di visuale perché i nemici della purga hanno gittata per questo che sono forti hanno gittata infinita se lui tira ad esempio in attacco ora ne abbiamo preso una da corpo a corpo ma se fosse stato il compagno suo accanto che tira 3 dadi a distanza lui ne avrebbe tirati 3 a qualsiasi gittata quindi è quella la potenza sono tipo dei terminator o dei siloni che non sbagliano mai il corpo comunque lui qua dietro vedete ha la struttura più bassa ha visuale su di lui che non gli dà copertura perché è in campo aperto quindi lui andrebbe a tirare 3 dadi e lui se ha un'armatura addosso ovviamente sottrarrà i risultati come ha fatto precedentemente il mostro l'npc se invece non ha armatura il risultato che verrà fuori lo incasserà completamente quando un personaggio arriva a 0 punti ferita non è morto in questo gioco però rimane steso a terra lo dovete stendere così si possono fare varie cose può essere soccorso da un altro membro della squadra ovviamente se ha un medikit o un'abilità di cura e la cosa bellina è che dice il gioco come Mordheim a fine avventura la partita finisce quando avete fatto il vostro obiettivo quando l'avete compiuto però la partita può finire anche senza fare l'obiettivo perché se voi vedete che state morendo come mosche e non ce l'ha fatta a fare l'obiettivo potete prendere scappare tornare a bordo della vostra nave andare via non avete completato l'obiettivo ma avete comunque preso un punto esperienza perché vi siete salvati però ricordatevi e questa è la cosa che mi piace di più del gioco se il vostro personaggio è rimasto in terra e gli altri due sono scappati lui è rimasto lì quindi a fine avventura si fa un tiro per vedere se è vivo se è morto se è stato catturato dalla purga per farlo diventare un androide perché alla fine ti rapiscono per farti diventare uno di loro sembrano un po' borga assimilatori e cose del genere oppure sarà possibile a decisione del giocatore provare a teletrasportarlo fuori rischiando di smaterializzarlo e ucciderlo oppure sarà possibile organizzare una missione di soccorso quindi rigiocando con la stessa mappa non più pvp come prima provare una missione di soccorso per andarla a prendere e portarlo via però vi ricordo che ci saranno sempre mostri a cercare di mettervi i basturoni fra le ruote e il gioco ragazzi sommariamente è questo stessa cosa io mi potrei muovere in corpo a corpo fare un attacco con la mia arma da corpo a corpo e tirare sempre gli stessi dadi quindi comunque le regole essenziali del combattimento dei punti feriti e tutto sono queste vi ricordo che ciascun personaggio ha di base due azioni poi sulla scheda lo vedete praticamente sulla scheda del personaggio con il colore azzurro tipo che ne so Arianna qui che vedo ne ha due Royrick ne ha due e Gak ne ha due però ci sono personaggi che ne hanno uno di partenza Arianna essendo un personaggio un po' più forte può arrivare fino ad avere tre azioni le azioni sono queste quali avete visto se lui ha due azioni con una mi sono mosso e con uno sparato quindi fine del turno potete usare le azioni anche per usare le skill e le skill come si utilizzano vi ho fatto vedere inizialmente che avete dei piruletti viola sulle schede che quello sono il conteggio massimo delle skill che potete utilizzare quindi se voi avete una skill livello 3 per poterla utilizzare dovete usare una delle vostre due o tre azioni e togliere tanti piruli viola quanto il livello della vostra skill quindi se la vostra skill di pronto soccorso per tirare su un compagno l'avete portata a livello 2 per utilizzarla dovete usare due piruli viola togliendoli da quelle che avete sulla scheda se non ce ne avete abbastanza non lo potete utilizzare quindi questo è un pochino il malus di portare una skill a livello troppo alto perché si è più forte rispetto ad averla a livello 1 portandola a livello 2 o comunque superiore massimo a 3 però richiederà più dispendio di punti skill e questo ragazzi è la gestione dei movimenti la gestione dei turni e la gestione delle azioni ricordatevi che poi ci sono varie regole potete addirittura andargli in corpo a corpo e provarla a spingere o provare a trascinare un oggetto un compagno ci sono 2000 regole però le regole di partenza sono queste ciascun personaggio ha un tot di azioni è uguale a mostri mostri che ne hanno una e mostri che ne hanno due l'unica differenza è che alcuni personaggi o skill e alcuni mostri hanno azioni linkate quando vedete un simbolo tipo una catenella sulla scheda di un'azione o di un mostro vuol dire che ha azioni linkate che ne so se questo membro della purga se questo androide avesse l'azione linkata vorrebbe dire che potrebbe fare due volte la stessa azione ma non differente quindi se lui nel primo turno si muove cioè come prima azione si muove come seconda azione non potrà sparare dovrà per forza muoversi se lui nella prima azione decidesse di sparare nella seconda azione dovrebbe sparare cioè l'azione linkata dovrà fare due volte la stessa e questo ragazzi è tutto movimento attacco azione finito se io sono in copertura ma anche in copertura di una parete ad esempio di una porta di una finestra qualsiasi cosa che copra almeno il 70% del vostro personaggio lo mette in copertura ok quindi misurate questa è una copertura ad esempio perché lo copre praticamente fino al collo però ad esempio mettendolo così non sarebbe in copertura soltanto perché con la gamba col piede sinistro tocca un oggetto dovrà essere comunque sempre posizionato bene e poi con il misuratore andrete sempre a vedere la cittata e quanto è in copertura e queste sono le regole ora arriva la cosa che da montare mi ci vende a ride è stata veramente cioè se ci pensate un attimino è da pazzi però anche la più grande figata che c'è al gioco il loot in tutti i giochi del mondo e anche in questo il loot cosa vuol dire mi sposto in una stanza ok questa qui conta ragazzi vi ricordo che non ci sono corridoi praticamente in tutto il gioco in tutta la mappa sono tutte stanze no vedete sono sempre delimitate da pariti io entro in questa stanza quindi dico ok in questa stanza con la mia azione che ho provo a cercare se ci sono oggetti in questo sacchettino sono messi tutti gli oggetti loot del gioco quindi voi cercando nella stanza senza guardare andrete a pescare da questo sacchettino e tirerete fuori un oggetto quindi che ne so ho trovato quest'arma qui questa pistola che ovviamente se ho slot nella scheda la metto nella scheda se non ho slot potrei dire vabbè c'ho un'altra arma più debole che non mi piace anche perché questa ha un corpo a corpo tira 5 dadi quindi tenetevela è andato veramente di culo buttate via un'altra arma e questa la mettete sulla scheda quindi questa ora è associata a questo personaggio però la cosa più figa è che dentro queste casse nel gioco che sono casse grandi come quella oppure casse piccole come quest'altra qui c'è davvero del loot quindi se il vostro personaggio arriverà in contatto di base con una cassa e ricordatevi sono sempre verdi o rosse o a volte gialle per del loot raro ma che comunque non è in questa situazione quindi nella missione di base non c'è uno potrebbe dire ok sono in contatto luto non faccio l'azione di loot nella stanza ma faccio l'azione di loot dentro la scatola voi levate il coperchio sembra la casa delle bambole il coperchio dalla scatola e come vedete all'interno c'è davvero del loot quindi il giocatore senza farsi vedere dall'altro player nel caso del pvp lo saprà soltanto lui cosa c'è dentro girerà tutto quanto butterà fuori il contenuto dalla cassa la cassa va rimessa nello stesso punto dove era prima guarderà qual è il contenuto che c'era all'interno e poi potrà decidere di prendere un oggetto o anche tutti potrà decidere anche di prendere tutti quanti a patto che li stiano sulla scheda ah ragazzi se nella scheda avete abbastanza slot da mettere tre armi da fuoco lo potete fare eh questo non è zombie side che se ho la pistola non posso usare l'uzi no 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 voi potete usarle tutte a patto che vi stiano addosso ovviamente prima di fare un'azione dovrete dire uso il fucile d'assalto uso il coltello uso il mitra uso la pistola dovrete sempre dirlo mettiamo caso che lui abbia deciso di prendere quest'arma ributterà queste due proprio dentro la cassa fisicamente le ributterà all'interno della cassa qua giù l'andrà un'altra volta a ritappare quindi nell'esatta posizione dove l'ha trovata e questo oggetto qui sarà ora legato al personaggio che lo toglierà e se lo metterà sulla scheda quindi il loot in questo gioco che trovate a giro è reale ragazzi ci sarebbero tante altre cose da dirvi come reagisce la purga come reagiscono i nemici però alla fin fine il gioco è questo ragazzi una piccola accortezza lo dicono loro nei tutorial nel manuale e tutto vedete ci sono un pochino i bordini del cartoncino perché ovviamente lo scenario è bellissimo come tutto fatto in cartone ci sono un pochino i bordi no? come ad esempio di questa cassa verde loro consigliano ma ve lo diciamo anche noi prendete direttamente un pennarello indelebile non troppo bagnato insomma che non vada ad intaccare o a rovinare il cartoncino perché non è plastica questa ragazzi è veramente molto molto fragile andate a colorare gli angoli quindi in questo caso di questa cassa verde prendete che ne so un pennarello dello stesso colore verde e andate a colorare gli angoli che non si veda l'angolo bianco brutto del cartoncino almeno gli date anche proprio più uno spessore reale a una cosa del genere ragazzi se non sapete come montare lo scenario ci sono tutti i tutorial sul sito però queste bene o male sono le regole del gioco poi ovviamente c'è un movimento accorto azioni gratuite ci sono tante cose in più però questo ragazzi questo qui veramente è il regolamento semplice già con quello che avete visto in questo video potreste prendere e iniziare a fare la vostra partita ci sono obiettivi in questo caso l'obiettivo della missione era arrivare a questo computer principale scaricare dei dati che sarebbero questo oggetto qua giù verde questo oggettino qui scaricare questi dati e portarli via perché la missione è di prendere questi dati e rivenderli già vedete i personaggi che è bellino anche lo stile di gioco sono mercenari perché questi dati non se li tengano a livello di informazioni ma qualcuno li ha pagati per riprenderseli quindi magari una squadra li ruba e un'altra squadra farà il possibile per rubarli alla squadra che li ha presi la cosa bella di questo gioco è che lo potete giocare in tre varianti o pvp per gli amanti di mordaim con tanto di campagna modalità campagna quindi per gli amanti di mordaim hanno trovato il gioco spaziale sci-fi potete giocarlo cooperativo tutti insieme con tre mostri quindi tutti parte dello stesso equipaggio e si combatte con tre mostri potete giocarlo co-op con due equipaggi differenti però che collaborano quindi anzi forse quattro modalità e la quarta secondo me è quella più interessante e carina potete giocarlo sempre cooperativa tutti insieme però dove i mostri non saranno guidati dalle regole del gioco che le regole del gioco non ve l'ho detto prima ma sono semplici dicano che il mostro attaccherà sempre il giocatore più vicino almeno che le regole della partita non dicano altro però il mostro cercherà sempre di andare verso il player più vicino per ucciderlo oppure anche l'NPC loro sono qui per annichirire e distruggere ogni forma di vita e queste qui sono le regole del gioco principali concludendo invece di farli muovere così con le regole del gioco il dungeon master potrebbe dire io sono dungeon master e decido io dove andranno i mostri ad attaccare quindi le regole di ingaggio non si seguiranno più questo ragazzi è un'infarinatura di core space che è un gioco assolutamente spettacolare ed è soltanto la prima parte perché nella seconda parte io e mia moglie vi faremo vedere qualcosa di ancora più spettacolare questo gioco ragazzi è tutto e io ringrazio ancora una volta Andrea che mi ha fatto conoscere perché vi giuro se mi sono perso un gioco del genere vuol dire che ho ancora tanto da imparare nei board game quindi ragazzi in conclusione queste erano più o meno le regole di battle systems che come vi ho detto è un gioco molto semplice è un gioco forse per questo che le do leggermente un punto in meno ma ora vi dico non fa tanto la differenza è un gioco molto semplice e sono meccaniche già viste già viste in tutti i giochi del tipo però va anche bene alla fin fine perché come se poi riuscirò ve lo porterò come le regole di Alien Contro Predator che ho qui dietro sopra la testa nella libreria dietro a me quello quando leggete il manuale c'è sì però questo è preso da Warhammer questo è preso da Dungeon & Dragons col D20 e anche questo ha delle regole che abbiamo visto sempre in tanti giochi però come voglio dire sempre non è l'importante non è creare qualcosa di innovativo che non si è mai visto quanto creare un gioco bello credibile e divertente e loro ci sono riusciti perché la cosa più importante è che noi ci salza dal tavolo e diciamo bello domani facciamo un'altra partita settimana prossima ne facciamo un'altra se dopo aver fatto una partita il regolamento bello originale però ci passa la voglia di giocare è anche inutile capito no starci lì tanto a scervellare per fare un gioco unico e ci sono riusciti veramente bene e poi ancora una volta un regolamento semplice io devo leggere il manuale perché così ragazzi nessuna voglia di scervellarsi in giochi come Serebria dove c'ho da leggere il manuale 20 volte vedere 50 gameplay prima di riuscire a fare una partita lo butto via lo vendo cioè non è per cattiveria però non voglio sudare che già fa abbastanza caldo l'estate per un gioco del genere io devo leggere il regolamento sapere di cosa tratta leggerlo magari una seconda volta perché quella regolina non ti torna però poi dopo intavolare una partita e partire subito e quindi ci sono riusciti veramente bene se devo dare un voto a questo core space che ricordo core space è il gioco da tavolo il board game della battle system hanno detto dopo tanto che facciamo gli scenari e vendiamo gli scenari per altri giochi da tavolo facciamoci un gioco tutto nostro e ci sono riusciti veramente bene perché nel gioco di base trovate due equipaggi più i nemici del void li trovate del purge li trovate qua giù dentro più civili però ci sono altri equipaggi opzionali che potete comprare perché il gioco alla fin fine è veramente una specie di mordai nello spazio fuso a un necromunda ci sta veramente molto bene poi se il gioco non vi piace potete direttamente comprare gli scenari perché l'avete visto cioè ragazzi sono cose veramente mostruose questi scenari qua giù fanno veramente paura e mi viene voglia di provarlo anche a giocarci a warhammer o qualche altro gioco del genere quindi se devo dare un voto a core space ma comunque alla battle system direttamente li do assolutamente 9.5 su 10 perché sono riusciti a fare un capolavoro ora se devo dire la verità questa scatola qui se non mi ricordo mai dovrebbe costare sulle 80 sterline fate conto un 100 euro e uno dice vabbè questa scatola qua giù non sto parlando di questa che bene o male i prezzi sono gli stessi per avere tutte e due un 180 200 euro vi vanno via con le spese postali e tutto il resto però uno dice 100 euro per questa magari con 2 o 3 amici dividiamo le spese ragazzi c'è uno scenario dentro che piglia tutto il tavolo c'è uno scenario 3d colorato voi dovete soltanto montarlo c'è da incollare ritagliare tutto in castro già colorato che lo mettete su un tavolino invitate i vostri amici per fare una serata una sorpresa vi vengano a casa fanno ciao ma quello l'ha fatto te ma dove cacchio l'hai preso è bellissimo cioè veramente ti cala nella parte ti cala veramente nella parte da morire e poi l'ho detto volendo potete anche smontare qualche vario pezzo e montarlo da altre parti e lo usate anche per Warhammer e altri giochi vostri quindi come scenari sono riutilizzabili un 9.5 9.5 su 10 assolutamente meritatissimo e ricordo ragazzi per ordinarlo trovate il link in descrizione al video e il nostro link typee nel caso vogliate fare una donazione per supportare questo nostro progetto per portarlo avanti perché comunque ci farebbe piacere continuarlo anzi prendere attrezzatura nuova e quant'altro e sempre qui in sovrimpressione ma lo trovate anche in descrizione casella postale se volete farci un regalo un board game un gioco di carte un board game o altre cose o anche semplicemente mandarci un gioco usato che magari avete a casa e non utilizzate più quindi ragazzi assolutamente un bellissimo gioco passata a pieni voti non dimenticatevi di seguirci anche su Instagram trovate il link qua sotto perché comunque per quanto il sito di maledetti dadi è in stand by l'Instagram lo stiamo continuando a portare avanti quindi pillole mini recensioni e cose del genere comunque anche anteprime video che carichiamo e ragazzi è un gioco bellissimo e non vi deve scappare è vero sì ammetto a un certo costo perché qui si va dalle avendo fortuna che l'ho trovato usato da qualcuno 120-130 euro però ordinando tutto sicuramente almeno 150-160 vi vanno via però ragazzi vi portate a casa una cosa mostruosa che anche senza comprare Core Space avete dentro due scenari immensi che vi giuro mettendole tutte e due insieme questo tavolo che vedete davanti a me non basta quindi vi siete fatti lo scenario per tutti i vostri giochi da tavolo skirmish o wargame da qui veramente alla vostra morte ce n'è per tutti i gusti e poi sono fatti bene fossero brutti intanto tanti e grandi ma sono fatti bene quindi io spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e al prossimo video ciao belli